Buonasera, benvenuti a 8.30, buonasera, benvenuto Carlo De Benedetti, imprenditore e da oggi anche di nuovo editore con il quotidiano Domani, che ha peraltro venduto più di 80.000 coppie il primo giorno, complimenti. Allora, stiamo aspettando Massimo Giannini, direttore della stampa, che sarà collegato con noi da Modena. Ecco, allora, bisogna dire che in tempi di pandemia e in tempi di grave crisi economica non possiamo che salutare con calore l'arrivo di un nuovo giornale, ma domani sarà un quotidiano di sinistra, sarà antigovernativo e in che cosa è diverso dagli altri? Subito dopo la pubblicità. Grazie a tutti. Allora, intanto saluto Massimo Giannini, direttore della stampa che ci ha raggiunto, collegato con noi da Modena. Ingegner De Benedetti, allora, da oggi è online e in edicola la sua nuova avventura editoriale che si chiama Domani, è un quotidiano diretto da Stefano Feltri, ecco lo vediamo. Mi dice perché dovremmo scegliere di leggere il suo giornale? Io sono di parte, quindi evidentemente è ovvio, perché io penso che il mondo liberal democratico non abbia più un riferimento giornalistico come ha avuto per tanti anni, questo a seguito di passaggi di proprietà che ci sono stati negli ultimi anni e mesi. Io penso che le disuguaglianze in questo Paese sono assolutamente inaccettabili oltre che in aumento e noi vogliamo stare dalle parti di chi la disuguaglianza la subisce. Ecco, adesso questo tema lo approfondiamo perché naturalmente è importantissimo, ma ho capito bene, praticamente lei mi sta dicendo che vuole sostituire Repubblica in qualche modo? No, guardi, la dimostrazione che non è un amarcord di alcun tipo è che da Repubblica non abbiamo preso, nonostante che io abbia molti amici tra i giornalisti di Repubblica e molta affetto e stima per molti di loro, non abbiamo preso un solo giornalista che venisse da Repubblica. E questo proprio per dirle che noi partiamo con un concetto molto diverso, innanzitutto partiamo da un giornale che nasce sul web e ha una sua nobilità, se vogliamo, nella carta, quindi il contrario di come storicamente sono nati i giornali. Poi abbiamo una redazione molto giovane, il direttore ha compiuto 36 anni qualche giorno fa e poi abbiamo anche gente che ha 20 anni in redazione, abbiamo parità, cosa che la farà felice tra uomini e donne perché so che questa è una battaglia continua che lei fa e quindi non può rimproverarmi di niente per adesso. Allora, le voglio chiedere due cose. Uno, cosa le ha detto il presidente Mattarella perché fino a poco fa è stato al Quirinale, è ricevuto insieme a Zanda, Feltri. Beh, è stato molto gentile il presidente a riceverci, a ricevere il presidente della società editoriale che è il senatore Zanda, il direttore del giornale Stefano Feltri e me, perché il presidente ritiene, come mi sembra giusto, che una nuova voce è comunque un passo avanti della democrazia. Se nasce un giornale, specialmente in un periodo in cui i giornali tendono piuttosto a ridimensionarsi piuttosto che a nascere, credo che siamo l'unico giornale nato in Europa in questo periodo, mi fa piacere e lui ritiene una cosa importante, al di là di quello che poi saranno i contenuti del giornale, sui quali è ovvio che il presidente non si esprime. Senta, oggi ha ricevuto anche la telefonata, sì, invece di qualcuno di Repubblica. Sì, di Eugenio. Eugenio Scalfari, sì. Ma eravate non proprio i buoni rapporti. Tra l'altro lei si ricorderà che abbiamo avuto uno scazzo proprio in una trasmissione da lei, non direttamente ma indirettamente. No, abbiamo fatto pace da parecchio tempo. Io stamattina gli ho fatto recapitare alle sette il domani perché aspettavo un giudizio di Eugenio. Non glielo ho chiesto, ma mi avrebbe fatto piacere. Mi ha chiamato nel pomeriggio e mi ha detto ogni bene possibile. Io gli ho detto non dirmi le cose che vanno bene di me, gli difetti. Non ci sono difetti. Beh, quando il varte del giornalismo italiano dice che non ci sono difetti, basta. Allora Massimo Giannini, tu sei davanti al tuo ex editore Carlo De Benedetti. Naturalmente anche tu hai guardato con attenzione, letto con attenzione come noi tutti, il domani. Perfetto come dice Scalfari? Ma intanto fammi fare gli auguri all'ingegnere, fammi fare gli auguri a Stefano Feltri che è un amico. Penso anch'io che ogni nuovo giornale che nasce, l'ha detto bene De Benedetti, in una fase difficile per i giornali, come quella che stiamo attraversando, è una bella notizia per la democrazia. Più c'è pluralismo, più c'è informazione e più, credo, la nostra democrazia abbia da guadagnare. Mi ricollego ancora a Scalfari per raccontare un aneddoto della nostra gioventù giornalistica, perché io sono entrato a Repubblica nell'86 e mi ricordo che era una costante, nelle riunioni del mattino con Barba Papà, come lo chiamavamo, ogni volta che usciva qualunque nuovo organo di informazione, fosse pure l'eco di Rocca Sgurgola, lui che guidava la corrazzata Repubblica, però aveva un atteggiamento sempre di allarme costante, dice oddio adesso arrivano questi, guarda quanto hanno fatto bene, ci porteranno via copie, dobbiamo stare attenti. Dopo un po' era diventata una gag, però aveva un approccio secondo me quello giusto, bisogna rispettare tutti, guardare tutte le iniziative giornalistiche con attenzione. Per quello che riguarda domani, sincero, molto elegante, un po' freddino, se davvero il progetto è presidiare la metà del campo progressista, secondo me un pizzico più di garibaldineria non guasterebbe. Mi spiego a dire, insieme a questo, ovviamente auguri. Grazie Giannini, voglio solo, se permette, grazie prima di tutto, il mio commento è stato, leggendo il giornale oggi, un po' più di Pepe per favore, quindi insomma siamo totalmente in sintonia. Ecco, le avrei chiesto che cosa le è piaciuto o non le è piaciuto, un po' più di Pepe, con questo abbiamo, ma lo chiamiamo il domani, il giornale, domani, allora domani è un quotidiano di sinistra? Beh, è un quotidiano che si rivolge a un pubblico, diciamo, riformista, liberal democratico, lo chiami come vuole, in America si chiama un giornale liberal, ecco, cioè un giornale certamente che guarda a quella parte dello spettro politico, però che non è legato a nessun partito, a nessun uomo, a nessuna società, a nessun interesse, cioè è veramente indipendente, ma non perché lo dico io, perché sta nelle cose, cioè io non ho più nessun interesse economico che non sia l'amministrazione del mio patrimonio, che ovviamente non ha nessuna interferenza con le materie del giornale. Ed è antigovernativo? No, guardi, si pone in posizione critica nei confronti di tutti i poteri, compreso quello governativo, ma voglio dire, come dovrebbe fare? La stampa è sempre stato un contropotere, solo ultimamente ci sono giornali che sono schiacciati su un partito o su un personaggio. Ecco, lei ha accennato prima al fatto che è un giornale che si batte, lo scriveva anche oggi Stefano Feltri nel suo editoriale del primo numero, che si batte contro le disuguaglianze e per la difesa dell'ambiente. Allora come si fa la lotta contro le disuguaglianze in un mondo dominato dal capitalismo finanziario, un mondo che lei conosce bene e di cui anche lei fa parte? Come si fa? Certo, ma guardi, il discorso non lo risolveremmo in una puntata di 8,5, posso solo dire sinteticamente la politica monetaria che è stata fatta da tutte le banche centrali, dalla Banca del Giappone alla Fed alla Banca Nazionale Svizzera alla Banca Centrale Europea, è stato quello di cercare di rianimare l'economia dopo la crisi precedente abbassando i tassi di interesse. Non so se il concetto è così chiaro, ma se uno abbassa i tassi di interesse il valore degli asset aumenta e infatti abbiamo visto le borse di tutto il mondo salire. La disuguaglianza nasce dal fatto che la forza lavoro è stata messa in competizione con la globalizzazione, quindi la forza lavoro europea, ma io mi riferisco a quella italiana in particolare, è stata deflazionata anziché inflazionata. E noi abbiamo un'inflazione di asset e una deflazione del lavoro, questo aumenta le disuguaglianze. Poi ne potremmo parlare con molto più profondità, un tema che vale un approfondimento sicuro. Ma è preoccupato lei in questa fase per la tenuta economica del Paese, l'Italia? Certamente non sono tranquillo, voglio dire, non sono tranquillo perché noi abbiamo sfondato ogni limite possibile di debito pubblico, secondo me giustamente, nel senso che questi soldi andavano dati, andavano messi nelle tasche dei cittadini in qualche modo, la cassa integrazione doveva essere prolungata. Quindi io non ho niente contro le politiche che il ministro Gualtieri e il governo hanno fatto, però certamente hanno portato a un ballooning del nostro debito pubblico, la Banca d'Italia l'ha annunciato oggi, 2.560 miliardi, cioè è aumentata di 1.000 miliardi negli ultimi dieci anni, per capirci. Quindi non è uno scherzo. A fronte di questo c'è questo recovery fund, che chiaramente è una straordinaria opportunità per il Paese. Adesso ci arriviamo, perché voglio interpellare Massimo Giannini, per tornare ancora un attimo alle disuguaglianze. Da dove si prendono i soldi per combattere le disuguaglianze? Bisogna prendere ai ricchi? Una rapida solo premessa con riferimento al presidio dell'area liberal-democratica dal punto di vista dell'informazione. Un approccio critico nei confronti di tutti i poteri è esattamente quello che facciamo ogni giorno. Quindi da questo punto di vista il solco è già tracciato. Ci siamo tutti lì dentro. Ci senti tutti, Massimo Giannini, ma temi qui la concorrenza comunque, no? Perché è una concorrenza in più che tutti ritrovi. No, ma la concorrenza, come dimostra il teorema Scalfari di cui parlavo prima, ci fa solo bene, sempre e comunque. È un fattore che non può non spingerci a cercare di fare meglio. Tutti quanti. Quindi da questo punto di vista nessuna preoccupazione e nessuna paura. Per quello che riguarda la disuguaglianza, d'accordo con l'ingegnere, aggiungo una cosa. Aggredire le disuguaglianze non significa, come disse una volta Bertinotti ai tempi del governo dell'Ulivo, che anche i ricchi piangano. Ve lo ricordate quella tesi? Perché qui il problema non è aggredire la ricchezza, ma è aggredire la povertà. Come si fa? Due cose fondamentali, direi. Una riforma fiscale, perché io resto convinto del fatto che in ogni caso il fisco come elemento di redistribuzione del reddito in un Paese nel quale l'evasione fiscale vale 200 miliardi all'anno è il primo punto all'ordine del giorno. Il secondo punto all'ordine del giorno ovviamente è, insieme a una disciplina del mercato del lavoro che finalmente, senza più troppe chiacchiere, perché finora sono state solo chiacchiere, aggredisca il tema del precariato, tuttavia finanzi la crescita. Investimenti, ecco diceva l'ingegnere Recovery Fund, è la grande occasione che abbiamo per fare investimenti, perché si cresce solo così. Se la sprechiamo allora siamo al suicidio politico. Ci arriviamo subito, voglio solo prima chiederle, lei pensa che servirà una patria? patrimoniale. Ma io lo sostengo da vent'anni, quindi... Ma anche in tempi di pandemia adesso? Ma assolutamente sì, cioè io parto dal punto di vista Svizzero, la Svizzera non è un Paese che è stato invaso da ordine di comunisti nella sua storia, in Svizzera esiste una patrimoniale con aliquota modesta ma annuale e io cittadino svizzero, oltre che italiano, la pago. e la trova una forma doverosa. Quindi il governo Conte dovrebbe mettere una patrimoniale? Ma non lo farà, ma non lo farà assolutamente. Perché nessun governo vuole mettere delle tasse? Ma per carità. Chi vuole metterle? Senti a proposito del governo Conte, lei un anno fa qui da noi aveva detto che il neo formato governo PD 5 Stelle era una catastrofe perché Salvini andava battuto alle urne. Un anno dopo Salvini è indebolito in base a tutti i sondaggi. Il governo Conte ha gestito oggettivamente bene la pandemia e il Premier ha anche portato a casa il Recovery Fund che è un successo riconosciuto da tutti. Ha sbagliato analisi lei, De Benedetti? No, io penso che in questo Paese ci sia un gravissimo problema e cioè respingere le competenze. Guardi, la frase che ha detto Conte su Draghi è una frase molto indicativa. Cioè? Cioè è quello che Draghi è vecchio, gli ha detto che è stanco. Che è stanco, che gli ha detto che è stanco. Come dire stanco, sì non è vecchio, stanco, scusi, ho sbagliato io. Guardi cosa è successo del piano Colau. A un certo punto Colau doveva salvare il Paese. C'era parlato addirittura di Colau come ministro, addirittura come primo ministro. Il piano Colau è finito in un cassetto. Non è stato fatto nulla. Con tutte le raccomandazioni che lui aveva con la sua commissione elaborata. Quella buffonata di Villa Panfili, una settimana in cui se ci fosse ancora, c'è per fortuna, ma una frase famosa di Rino Formica, ex ministro socialista, era Nani e ballerine. Cioè c'era di tutto. Non è venuto fuori un documento, zero. Allora io sono molto preoccupato sullo recovery fund. Perché a Moixel mi risulta, da contatti molto credibili e informati, che si aspettano dei programmi, ma non delle enunciazioni di principio, dei programmi con una cadenza anche settimanale addirittura del progresso dei lavori. Allora, in questo paese noi facciamo vincere i mediocri. Perché c'è una notevole opposizione psicologica ai Draghi, ai Colau. Vanno avanti i mediocri. Quindi diciamo il cosiddetto partito di Draghi... Non esiste. Questo Parlamento non voterà mai Draghi a fare il Presidente della Repubblica. Ma lei lo ha auspicherebbe? Io penso che sarebbe una cosa molto opportuna per il Paese. Ma sono convinto che questo Parlamento non voterebbe Draghi a Presidente della Repubblica. Assolutamente. Perché vincono gli incompetenti. Il Presidente del Consiglio. Ma questo governo ha comunque impedito, o ha arginato, sta arginando la destra in Italia. Lo ha detto e ricordato oggi anche Beppe Grillo per la verità. Vediamo come vanno le elezioni amministrative. Io mi auguro che lei abbia ragione. Aspettiamo le elezioni. Ci vuole qualche giorno, il weekend prossimo. Lei andrà a votare per il referendum? No, per il referendum ho già votato perché è voto per posto. E ha votato? Ha votato no. Ha votato no. Senza esitazione e con profondo convincimento. Perché non è questo il problema, immagino. Ma è ridicolo. Hanno incominciato con raccontarci che si risparmiava, poi non l'hanno più detto perché si sono accordi che era una stupidaggine. Allora adesso dicono che con meno parlamentari si fa più alla svelta. Insomma, guardi, delle cose veramente da prantissorcier, ci direbbe. Cioè da maestri dell'ignoranza. Da maestri dell'ignoranza. Massimo Giannini, tu sarai d'accordo su questa analisi severa dell'ingegnere De Benedetti del governo Conte? Sì, io sono complessivamente d'accordo. Però, come tu hai già sottolineato Lilli, non possiamo non considerare due fatti fondamentali. Il primo è che sostanzialmente questo governo non ha alternative. Perché in base all'attuale maggioranza, che altro tipo di soluzione potremmo immaginare rispetto a questa? Non c'è. Anche se si autonomizzasse Forza Italia e desse un suo contributo a questo governo, sicuramente se ne perderebbe un altro pezzo. Quindi non vedo scenari politici alternativi a quello attuale. E il secondo aspetto, anche io ero tra quelli che dicevano un anno fa, non ha senso ricomporre un'alleanza tra due avversari che fino al giorno prima si consideravano. L'uno il peggior partito movimento populista d'Europa, l'altro il partito di Bibiano che faceva l'elettroshock ai bambini. Dopodiché non posso non vedere, tuttavia, soprattutto con riferimento alla grande occasione che abbiamo del Recovery Fund, che grazie comunque a questo governo, con tutti i suoi limiti, tutti i suoi difetti che riguardano il Presidente del Consiglio e la squadra dei Ministri, tuttavia siamo riusciti ad entrare dentro un meccanismo europeo che altrimenti non avremmo visto neanche col binocolo se avesse continuato a governare il governo giallo-verde. Quindi questo fattore lo dobbiamo considerare. Detto questo, lo scampato pericolo di un governo giallo-verde che ci avrebbe portato contro il muro e contro l'Europa è condizione necessaria, ma non più sufficiente per poter governare bene altri due anni fino alla fine della legislatura. E per questo Movimento 5 Stelle e Partito Democratico devono darsi una regolata, indipendentemente da come andranno le elezioni regionali e il referendum di domenica prossima. Lei è d'accordo con Giannini? Aggiungo anche quello che ha detto Beppe Grillo oggi, che ha detto che PD e 5 Stelle devono mettere insieme le forze perché c'è in ballo il destino di questo Paese. Io sono d'accordissimo, non per scambiarci cortesie, anche se siamo amici da una vita con Giannini, io sono d'accordissimo con quello che ha detto Giannini, con tutto quello che ha detto Giannini lo sottoscrivo. Però quando penso a chi materialmente scriverà questi programmi, questi progetti, mi viene da tremare. Perché noi abbiamo, questa non è colpa del governo, perché il governo non deve scrivere i progetti, non appartiene al governo. Loro deve dedicare i titoli e poi deve esserci qualcuno che lo fa. Ma la nostra cultura di amministrazione pubblica è una cultura fondamentalmente legale e amministrativa. Non è una cultura tecnica, non è come in Francia o come in Germania. Per cui la mia preoccupazione è la frase che ha detto Conte oggi a Noccia. E cioè ha detto, beh se spenderemo male i soldi del McCoy Covery Fund avrete diritto di mandarci a casa. Sì, ma lui fa un ragionamento che non esiste perché è quello di dire, una volta fatta la frittata ricomponiamo le uova. Non funziona così. Per cui speriamo che non faccia la frittata. Speriamo che non faccia la frittata, sì. In effetti oggi Conte a Noccia ha detto, se falleremo sul Recovery Fund mandateci a casa. E beh, per il momento lo credo bene, voglio dire, ma speriamo che non faccia la frittata. E non solo non si ricompongono le uove, ma va a picco il paese. Ecco, però Giannini diceva anche prima che a questo governo non ci sono alternative. Allo stesso tempo... Lo vediamo con le elezioni del weekend prossimo. Le faccio uno scenario, che faccio anche a Giannini ovviamente. Supponga che vinca il No. Supponga che... Ma perché lei pensa che potrebbe vincere il No? No, io dico che non lo so. Non lo so, ovviamente ho un mio auspicio, che è chiaro quando le ho detto che ho votato No. Quindi è chiaro che io auspico che vinca il No. No, credo che è più probabile che vinca il Sì, di gran lunga. Però, nelle urne si tradipende dall'affluenza, dipende da tante cose. E poi si vedrà. C'è di fatto che tutti quelli che hanno messo le mani sulla Costituzione si sono incornati. Vedi Renzi. Quindi, vediamo anche come va, perché se il Partito Democratico perde la Toscana... Cosa succede? Beh, secondo me Zigaretti va a casa. Ah sì? Assolutamente. Ma vuol dire, la Toscana è dal 48 che è governata a 60 e più anni. L'ultima elezione Enrico Rossi è stato eletto con il 68% dei voti. Quindi non c'è battaglia. Il governatore è uscente. Allora, avendo... Quindi Zigaretti dovrebbe dimettersi se perde la Toscana. Assolutamente sì. Ma secondo me, lo sa anche lui, cioè voglio dire... Beh, perché è una sconfitta clamorosa. E perderla a Toscana è una cosa anche su un bambino. Se poi lei, sempre perché la colpa è di Renzi, se si perde in Toscana è perché il candidato è un renziano di nessun appeal per la gente, per i toscani. Ha un modesto appeal nella città di Firenze, ma fuori in Toscana, zero. L'ha voluto Renzi. Così come Renzi ha voluto Scalfarotto che corresse in Puglia. Quel tanto per togliere... Contro Emiliano. Contro Emiliano. Per togliere un po' di voti Emiliano. Io non faccio previsioni di nessun tipo, ma faccio solo uno scenario. Si perde la Toscana, si perdono le Puglie. Lei crede che il governo stia su, ma neanche un attimo. Giannini, sei anche tu così pessimista drastico? Nel senso che se il PD perde la Toscana e la Puglia, a quel punto cade anche il governo? E Zingaretti va a casa? Il contraccolpo sul governo c'è di sicuro. Ci sarebbe anche il contraccolpo sul PD forse ancora più forte. Soprattutto perché nel frattempo, se questo scenario si avverasse, io non so se si avvererà ovviamente, però si sentono rumors, in Toscana la preoccupazione cresce. Ma se soprattutto si perdesse il PD e la Toscana, l'effetto uguale e contrario sarebbe che in Toscana avrebbe vinto la candidata di Salvini, che è l'unica che lui schiera direttamente in questa tornata elettorale, a parte Zaia che fa gara a sé, perché sappiamo bene che se in Veneto Zaia prende più voti dei voti che prenderà la Lega, anche lui come leader cresce di peso. Però se Salvini vince in Toscana, Salvini resta capitano per sempre, non gli toccheranno più la leadership in alcun modo e naturalmente questo accentuerà la tentazione di dare tutto il centrodestra oppure la destra insieme la spallata definitiva al governo. E lì effettivamente reggere l'urto sarà molto difficile. Non c'è nessun obbligo costituzionale, ma indubbiamente dal punto di vista politico il terremoto è assicurato. Scusa Massimo, ma siccome hai intervistato poco fa lì a Modena Bonaccini, il governatore dell'Emilia Romagna, del PD, viene indicato lui, casomai, come successore. Auspicabile? Possibile? Rapido? Sì, sì, è vero. Lui ovviamente ha detto che non ci pensa proprio, sta qui che governa la sua regione, come è naturale, però indubbiamente se dovesse saltare Zingaretti a me pare che la sua candidatura sia la più credibile perché ha amministrato molto bene questa regione e soprattutto perché ha battuto la destra pochi mesi fa. Quindi chi meglio di lui? Andrebbe bene Bonaccini come eventualmente per il Partito Democratico? Non lo so, non spetta a me a giudicare. Io le devo dire che c'era una vecchia regola all'epoca in cui esisteva il Partito Comunista che gli emiliani dovevano amministrare e che i non emiliani dovevano governare. Questo è stato sempre valido, ma con Nata, con Berlinguer, con tutti. Vabbè, vediamo. Si vedrà. A me tra l'altro risulta che Bonaccini tira molto di più a fare il primo ministro che non il segretario. Ho capito. Meno male che tutti siamo ambiziosi e ognuno può avere... Ma certo, ma certo. Senta, ho due domande rapidissime. Una che ci porta negli Stati Uniti. Le volevo chiedere se osa fare un pronostico tra Trump e Joe Biden. Il 3 novembre gli americani votano per le presidenziali? È molto difficile. È molto difficile perché, come lei sa, l'elezione in America avviene attraverso l'elezione di grandi elettori. Per cui Trump ha dimostrato nella precedente elezione del 2016 di riuscire a vincere i grandi elettori pur perdendo il numero di elettori. Perché la Clinton ha preso 3 milioni di voti in meno. Oh, sì, insomma. O in più la Clinton, sì. Ci siamo capiti. Quindi, non glielo so dire, certamente l'America è molto lacerata in questo momento. Sia per il Covid, sia per queste proteste che sono legittime contro delle azioni intollerabili della polizia. Però, nello stesso tempo, in queste manifestazioni si infilano anche quelli che noi chiameremo dei black bloc. Cioè, della gente che vuole assaltare le vetrine. Però, insomma, lei fa il tifo per Joe Biden. Assolutamente. Non tanto faccio il tifo per Biden. Faccio il tifo contro Trump. Ultima domanda. Berlusconi. Dopo il ricovero di Berlusconi... La interrompo. La interrompo. Auguri. Auguri. Va bene. Auguri. Allora, adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro. Torniamo ai giornali, perché di sicuro, l'abbiamo detto, non esiste democrazia senza una libera informazione, ma i tempi sono molto duri. Punto di Paolo Pagliaro. Che i giornali possano avere un futuro è una scommessa dall'esito incerto. In un panorama uniforme tendente al cupo, con il crollo delle entrate pubblicitarie e la fuga dei lettori, decide di dar vita a una nuova iniziativa, come fa l'editore del domani, a un che di temerario. Come tutte le imprese audaci, anche questa va dunque seguita con simpatia. L'industria dei media è tenuta in vita dagli investimenti pubblicitari, ma negli ultimi dieci anni gran parte di quegli investimenti è migrata verso i motori di ricerca e i social. Il problema è globale. Nel 2007, anno in cui debuttò l'iPhone, le entrate pubblicitarie dei giornali americani valevano 50 miliardi di dollari. Oggi valgono un terzo. In 15 anni, negli Stati Uniti sono scomparsi oltre 2.000 tra quotidiani e periodici. A Washington, il Congresso sta pensando di estendere agli editori il beneficio degli stimoli federali per il coronavirus. Anche in Italia, i media tradizionali vengono aiutati dal governo, con provvedimenti come il bonus, che consente alle imprese di trasformare in credito d'imposta il 50% degli investimenti pubblicitari. Ma ciò che l'industria editoriale si attende dalla politica è che venga finalmente recepita la direttiva europea sul copyright e che dunque i giganti del web comincino a riconoscere ad autori ed editori un compenso per i loro contenuti condivisi online. Vale per la musica, vale per i giornali. Per tutti è una questione di sopravvivenza. Andrea Martella, sottosegretario con delega all'editoria, ha promesso che entro l'anno la direttiva diventerà legge anche in Italia, come è già accaduto in Francia. Lì però, a differenza che da noi, non è al governo il partito della cosiddetta libertà di internet, che dei giornali farebbe volentieri a meno. Allora, grazie, grazie Massimo Giannini, grazie Ingegner De Benedetti e le faccio naturalmente tantissimi auguri per il suo nuovo quotidiano domani. E grazie spettatrici e spettatori, vi lascio a Floris al suo di martedì con molti ospiti e tra loro c'è anche Salvini. Noi ci vediamo come sempre domani, notte e mezzo. Arrivederci. Grazie a tutti.